Eccola la denuncia che ha aperto la mia giornata, procura della Repubblica di Milano, istigazione a delinquere, diffamazione, caro la racchetta e ce l'ha con me, ricordate quella signorina nuova eroina della sinistra che sbarcò immigrati su immigrati speronando anche una guà molto vedetta della guardia di finanza con dei militari a bordo in una notte d'estate, ebbene chi è sotto inchiesta, chi è sotto indagine, lei che ha speronato i militari italiani? No!